Coronavirus, così l'aggiornamento nelle nuove province della Sicilia, contagi stabili a Siracusa, 33. Ecco i casi di coronavirus riscontrati nelle varie province dell'isola, aggiornati alle ore 15 di oggi, così come segnalati dalla regione siciliana all'unità di crisi nazionale. La divisione degli attuali positivi nelle varie province è la seguente. Agrigento, 41, 0 ricoverati, 99 guariti e un deceduto. Caltanissetta, 51, 5 ricoverati, 110 guariti, 11 deceduti. Catania, 631, 35 ricoverati, 339 guariti, 97 deceduti. Enna, 67, 5 ricoverati, 325 guariti, 29 deceduti. Messina, 288, 33 ricoverati, 218 guariti, 56 deceduti. Palermo, 365, 29 ricoverati, 175 guariti, 34 deceduti. Ragusa, 28, 0 ricoverati, 62 guariti, 7 deceduti. Siracusa, 33, 6 ricoverati, 187 guariti, 28 deceduti. Trapani, 15, 0 ricoverati, 119 guariti, 5 deceduti. Dall'inizio dei controlli i tamponi effettuati sono stati 129.431, 2.083 in più rispetto a ieri su 114.230 persone. Di queste sono risultate positive 3.421, 4 in più, mentre attualmente sono ancora contagiate 1.519 persone, 3 in meno. 1.634 sono guarite, 7 in più e 268 decedute. Degli attuali 1.519 positivi, 113 pazienti, 5 in meno sono ricoverati, di cui 10 in terapia intensiva, 1 in meno, mentre 1.406 due in più sono in isolamento domiciliare. Il prossimo aggiornamento regionale avverrà domani a cura della Presidenza della Regione Siciliana.